Attimi di paura per un malcapitato canguro a Vittoria, in Australia. L'animale è stato salvato dal sicuro annegamento dopo essere caduto in una piscina privata, nel giardino di una villetta. L'emittente australiana Channel 7 ha mostrato le immagini del canguro che si dibatteva in acqua cercando di uscire dalla piscina prima di essere tratto in salvo dai soccorritori. L'animale è stato poi portato in uno zoo locale per ricevere immediate cure contro l'ipotermia. La vera complicazione è che ha preso molto freddo, spiega uno dei soccorritori. Secondo Channel 7 il canguro è stato scoperto grazie al cane del proprietario della piscina che ha cominciato ad abbagliare.